Ciao Astronomers! In questo tutorial voglio mostrarvi come collegare i supporti del sistema PLAS ai altri elementi del sistema PLAS, per avere una integrazione perfetta e migliorare il sistema di montaggio del telescopio. Come potete vedere, i supporti del sistema PLAS vengono con le ruote e le ruote per M6 in modo da lasciarvi facilmente collegare con tutti gli altri elementi del sistema PLAS, per esempio. In questo modo puoi collegare i supporti del sistema PLAS sul topo della barra di Vixen style dappare con due ruote. Se vuoi collegare il supporto del sistema PLAS alla barra di Vixen style dappare con la barra di Vixen style dappare con due ruote. e se vuoi collegare il sistema PLAS guide ring sul topo della barra di supporti, puoi fare in questo modo, usando due ruote di M6. Le ruote di supporti del sistema PLAS provide la migliore connessione anche per il tuo Eagle. Puoi fare in questo modo. Puoi afficciarlo sulle ruote di supporti, con due ruote di M6, ruote di M6 per creare un ruote perfezionato per il tuo telescopio. Puoi avere risp添え un ruote.